Salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, il Racatafilm per voi. Ci ho pensato da un po' di settimane prendendomi una pausa. Ho deciso di rilasciare una rubrica molto sentita, guidato dalle emozioni e con una passione crescente che non conosce limiti. L'ho chiamata le meraviglie del cinema, questa rubrica, incarnare la meraviglia, ma come si fa? Un sentimento di stupore suscitato da una situazione nuova, straordinaria o inattesa, con ciò che più ci lega al mondo. Questo aspetto importante della natura umana deve palesarsi in una forma tutta da scoprire, riscoprire e valutare più attentamente. Ed ecco un modo di raccontare storie con parole immagini che li rendono reali, i film che possono essere ritenuti fondamentali, l'essenza della settima arte, è tutta qui, secondo il mio percorso di studi autonomo. Sono qui per condurvi con mano in un viaggio quasi metafisico dove le sensazioni possono avere la meglio sulla rigida recensione suddivisa in reparti. Nel riprendere questi film in mano possiamo trovare un senso di beatitudine, un rapporto mistico con una dimensione che non è più lontana ma vicina ai nostri sensi e al nostro cuore. Vi presento nel volume 1 una ricca ricercata selezione di titoli nei primi 30 anni del novecento, pellicole che hanno scosso il pubblico con decisione lungometraggi di straordinaria vividezza. Cominciando con Viaggio nella Luna 1902, Georges Méliès, un racconto di 12 minuti di una spedizione lunare, un gruppo di scienziati che costruisce un enorme cannone che spara sulla Luna gli astronauti i quali cadono in mano dei abitanti seleniti. Un nuovo genere di illusionismo si fa realtà. Negli albori della settima arte questa produzione veniva considerata una forma di intrattenimento creata per un pubblico a caccia di sensazioni. Siamo dinnanzi a semplici registrazioni di atti magici evoluti in una storia fantastica realizzata attraverso innovativi e audaci trucchi della cinepresa. Viaggio nella Luna è considerato il primo film di fantascienza della storia del cinema con un messaggio penetrante in grado di sorvolare il filtro magico. È giusto ricordare l'intento del regista Georges Méliès non era inventare un genere bensì produrre una satira pungente sui valori vittoriani per ridicolizzare i rivoluzionari industriali dell'Europa occidentale. Da qui poi la prima morale ad effetto. Gli uomini di scienza sono sciocchi e distruttivi, causano il caos nel regno dei seleniti, etichettati come selvaggi. In una manciata di minuti lo spettacolo si unisce al fervore di un prestigiatore motivato che vuole scardinare le piccole grandimenti dalla morale ambigua. Da qui la scintilla si accese per sviluppare la tessitura di un disegno vivo e vibrante, ovvero il cinema che stupisce e stordisce. Passiamo ad Intolerance, 1916 di W Griffith. Ebbene sì, per la maggior parte dei miei iscritti potrebbe non suonarvi nessuna campanella, ma Intolerance è tra i film più influenti mai realizzati. Sentite bene, un'opera grandiosa dal budget di 2 milioni di dollari all'epoca, con set elaborati e più di 3 mila comparse sul set. Stiamo scherzando, si tratta di un vero e proprio colossal, suddiviso in quattro storie di intolleranza che abbracciano tre millenni, a loro volta racchiuse nell'immagine sempre presente di una madre che dondola una culla. Dalla caduta di Babilonia alla condanna a morte di Cristo, passando poi per il massacro nel 1572 dei protestanti in Francia da parte dei cattolici, fino a un conflitto fra capitalisti e lavoratori moralisti. Quattro storie che si incrociano con crescente rapidità, mano a mano che ci si avvicina al climax del film. Qui in montaggio svolge il ruolo di padrone assoluto delle riprese, che riesce a mescolare i treni ad automobili sfreccianti in un'altra storia, generando un effetto sinfonico. Importante anche l'utilizzo del primo piano, che permise di raggiungere la compostezza, la vera recitazione, in quanto duplicato della vita reale. Queste sono le parole di Griffith stesso, un capolavoro da riscoprire nella quale l'intolleranza viene analizzata attraverso la lente dell'amore tragico che suscita pathos e forti emozioni. Arriviamo al gabinetto del dottor Caligari, 1920, Robert Viene. Qui siamo al primo lungometraggio horror ed è facile riconoscere l'influenza nel cinema moderno. La scenografia nel film di Viene è avanguardistica nell'uso di ambienti palesemente teatrali e irreali ed è la caratteristica più sorprendente. Ma bisogna dar credito anche ai elementi più sottili, che ora sono tipici del thriller psicologico. Si introduce la figura del narratore inaffidabile, si sperimenta l'uso di questo espediente per raccontare la storia con toni inizialmente innocenti. Francis, il protagonista, è coinvolto in un triangolo amoroso. Tutto non è come sembra, tanto da modellare la trama in fase di produzione, arrivando ad un'altra novità nel cinema, il colpo di scena. Come non citare lo stile espressionista influenzato dal movimento artistico degli inizi del XX secolo. L'artificialità e l'oscurità riuscivano a raccogliere memorabili tracce di chiaroscuri, che rendevano l'atmosfera a carico di mistero e disagio. Una storia di eroi e cattivi contornata dall'uso frequente di primi piani sinistri, quasi a suggerire la natura del melodramma bizzarro. E dall'unione di queste caratteristiche vincenti possiamo tracciare un orrore derivante dalle nostre paure verso la maschera della sanità mentale, che anche gli individui già disturbati possono indossare per ingannarci. La corazzata Potionchi non è una cagata pazzesca. Siamo nel 1925, Sergei Eisenstein, un film commissionato dalle autorità sovietiche che diventa rivoluzionario. A distanza di 90 anni è raro che un film d'azione non gli debba qualcosa. La scena della carneficina sulla grande scalinata di Odessa, in seguito battezzata scalinata Potionchi, mantiene una forza trascinante di assoluto rispetto. Il regista utilizzò i 200 gradini per sperimentare con il girato, riprese dal basso, inquadrature strette, lampi di fucili ben visibili. Per Eisenstein era importante perseguire un nuovo linguaggio cinematografico. Gli esperimenti di montaggio del teorico, del tecnico cinematografico sovietico Lev Kuleshov gli sono stati di insegnamento per ricercare il significato non nelle singole inquadrature ma nel modo in cui la mente le contestualizza. 1346 inquadrature in un film di meno di 80 minuti è autentica follia. L'approccio alla narrazione risulta ancora oggi radicale. La dimensione epica si unisce a quella tragica escludendo la possibilità di interagire a livello personale con i personaggi. Celebre in questo senso la scena della carrozzina che rotola dalla scalinata, il simbolo ideale dell'azione manipolativa del film sulla vulnerabile emotività. E passiamo a Aurora, 1927, Frederick Wilhelm Murnau. Nell'epoca del cantante di jazz, primo lungometraggio sonoro, si stava suonando un altro tipo di musica orchestrata dal regista tedesco Murnau. Con Aurora assorbiamo un'esperienza umana universale, costellata da immagini in bianco e nero sgargianti, senza parole ma accompagnate da musica ed effetti sonori. Qui abbiamo due amanti clandestini che mettono in discussione la loro moralità di fondo, accecati da un amore torbido e totalizzante. La metropoli ritratta ha una sua valenza, un suo scopo, interviene per sprigionare un effetto magico sulla coppia di protagonisti. Due marionette del destino che trascorrono la giornata vagando tra la folla, lanciati in una danza elaborata del corteggiamento. Feste di luci brillanti, strani motivi allucinogeni vanno ad immortalare una cronaca sulla corruzione. Aurora racchiude il meglio del cinema muto, un carosello di melodramma, suspense, orrore e spettacolo, farsa e tragedia, altamente simbolico e significativo, un finale dalla didascalia immortale. Ovunque sorga e tramonti il sole, nel trambusto della città o sotto il cielo della campagna, la vita è più o meno la stessa, a volte amara, a volte dolce. Metropolis, 1927, Fritz Lang, inutile riportare il fatto che è un film che si è spinto veramente nel futuro e tutti sono debitori a Metropolis. Evocare gli incubi di un mondo in divenire a cento anni di distanza dalla loro realtà storica. Gli orrori meccanizzati della prima guerra mondiale erano vividi e da lì a poco i nazisti avrebbero iniziato l'ascesa al potere, proponendo soluzioni totalitarie. Gli uomini qui sono poco più che ingranaggi in una versione esagerata di Manhattan, associando monorotaie e pinnacoli splendenti a enormi e possenti macchine. L'architettura, che si erge in altezza per invadere il cielo e non semplicemente toccandolo, riflette la rigida struttura della sua società, dominata da un lusso che ha disperatamente bisogno di schiacciare il sottosuolo urbano. La dualità conturbante fra tecnologie e terrore, unita ad effetti speciali all'avanguardia, raffigura un mostro muta forma, incapace di compassione. Esce fuori l'iconica figura della donna macchina, uno strumento per ingannare, disumanizzare e schiavizzare. La prima distopia è su schermo e fra noi, ma soprattutto un'opera sociale e politica di alta caratura. Stiamo per raggiungerli poi i cento anni ritratti da Lang. Il 2026 è vicino. Io e il ciclone, 1928, Charles Reisner. Dal maestro dell'impassibilità comica, Buster Keaton, che è l'antisignano degli instant men, Io e il ciclone è ricco di eleganza nella forma e nelle esigenze della commedia. Un esempio di come giocare con le aspettative del pubblico. Steamboat Bill Jr. è la rappresentazione in live action della prima animazione di Topolino, dove le gag prendono il sopravvento sulla trama imbastita. Il film entra subito nel vivo, con una serie di giochi e invenzioni mirabolanti, dove il moto perpetuo è la chiave di volta del girato. Ogni elemento scenico deve risultare instabile, pronto a muoversi allo stesso ritmo di Keaton, che veste i panni di un magro e minuto figlio di un capitano brizzolato, di un piroscafo fatiscente. L'apparenza qui dovrebbe essere realistica, ma la struttura dominante è quella del sogno, anzi dell'incubo. Il tutto viene esposto attraverso il movimento accentuato, inarrestabile, con la scena del ciclone finale che colpisce per inventiva. Le acrobazie sono tutte studiate nel dettaglio, si dovevano organizzare con tempismo e disposizioni precise del quadro per evitare gravosi incidenti. La natura stessa del personaggio di Keaton è quella di un oggetto, se avete presente, come un fuscello di paia preso nel turbine della tempesta, o un granello di polvere finito negli ingranaggi della società. In un mondo fatto di richieste, di imposizioni, sopravvazioni, l'attore stuntman ottiene le briglie del girato e crea un universo parallelo tutto suo. Per poi concludere con Luci della città, 1931, Charlie Chaplin. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Charlie Chaplin, serve a precisare che è uno degli ultimi grandi film dell'era del muto e per molti una delle migliori commedie di tutti i tempi. La storia indimenticabile di un vagabondo in fuga e una fioraia cieca. Lui si innamora perdutamente della ragazza e desidera diventare il benefattore ricco e bello da lei immaginato. Decide di salvarla dalla povertà e cerca disperatamente i modi per raccogliere soldi per un'operazione in grado di ridarle la vista. Comicità, scurrilità e melodramma sono i tratti tipici di Chaplin, reinventati e ricalibrati per scambi di dialogo veramente intensi da assorbire. La speranza nel domani si unisce a un messaggio sentimentalmente potente, in grado di smuovere gli animi coinvolti nella grande depressione americana. C'è una celebre battuta con il vagabondo che esorta a vedere il mondo con altri occhi e ad essere fiduciosi, la celebre battuta che recita domani gli uccelli canteranno. Per quanto terribili appaiano, le cose, la gente deve aggrapparsi all'idea di una gioia futura. È questo il messaggio centrale del film. Nei rumori e bagliori della città moderna e City Lights, luci della città, i poveri e gli oppressi non devono essere dimenticati. È solo attraverso la purezza del silenzio, della semplicità e della cecità che le persone possono riacquistare i sensi e vedere di nuovo chiaramente. Il film mette in scena anche una composizione sonora che, a detta del regista, è un contrapunto di grazia e delicatezza che esprime il sentimento senza il quale l'opera d'arte è sempre incompleta. Parole che sono state tolte dalla mia bocca per descrivere una pellicola sensazionale e intrisa di pura magia. Siamo giunti alla fine del volume 1 di questa nuovissima rubrica. Si spera da aggiornare settimanalmente se i tempi saranno favorevoli. Le meraviglie del cinema è questo, un viaggio sentito attraverso opere rivoluzionarie che possono diventare punto di riferimento per coloro che vogliono approcciarsi alla settimarte. Qui è Antonio Cianci, il Raccata Film ha finito, fatemi sapere cosa ne pensate del video qui sotto, di questo punto d'inizio della nuova rubrica. Intanto vi mando un abbraccio, carissimi seguaci del Raccata Film. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!